Battuta d'arresto per le borse europee. Dopo tre settimane di guadagni, le principali piazze del vecchio continente mettono il freno, in vista di una sette giorni di fuoco, sul fronte dei dati macroeconomici. Maglia nera a Madrid che lascia sul terreno oltre nove decimi di punto, staccando Parigi, seconda peggiore, con un rosso di quasi 0,4%. A tendismo, la parola d'ordine che sembra nel complesso dominare i mercati, con Piazza Affari, che ha la doccia fredda dell'Istat sul ritorno in calo della fiducia delle imprese ad ottobre, risponde limitando le perdite allo 0,15%. A Piazza Affari brilla soprattutto Saipem, che nel giorno dei suoi trimestrali schizza oltre il 5%, male invece Fiat, che perde oltre il 3%.